Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Un vero arsenale è stato sequestrato in una casa della provincia di Venezia, che ha arrestato un italiano di 53 anni. Ecco tutti i dettagli. A Mira, in provincia di Venezia, la polizia della squadra mobile, congiuntamente al commissariato di San Marco, ha scoperto in un'abitazione un vero e proprio arsenale di armi. In una casa di campagna erano custodite un numero rilevante di armi comuni da sparo e da guerra, nonché altre armi da sparo realizzate artigianalmente, perfettamente funzionanti, tutto con il munizionamento. Durante la perquisizione, eseguita nella casa e nell'annesso podere, con l'ausilio della squadra artificieri, unità cinofila anti-esplosivi, sono state rinvenute 23 pistole automatiche, due fucili a canne mozze e una K-47 di produzione sovietica, oltre alle relative munizioni che superano il migliaio. Sono stati trovati anche armi bianche come balestre, una cerbottana, un macete o un visore notturno. Arrestato, l'uomo di 53 anni è un italiano residente nella casa, al quale viene attribuita la proprietà delle armi detenute in maniera illegale. Ulteriori indagini dovranno stabilire il perché di tutto quel materiale e a cosa serviva. L'uomo è stato portato in carcere a disposizione del pubblico ministero Stefano Buccini. I vigini del fuoco oggi sono intervenuti in gran forze a Porto Santa Margherita di Caorle, in provincia di Venezia, per l'incendio di un magazzino tessile. Sul posto sono arrivati nell'immediato i pompieri di San Donà che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Cinque i mezzi anti-incendio impegnati nell'estinzione, tra cui due autobotti e 15 operatori, arrivati anche da mestre a supporto dei colleghi. L'incendio è stato in breve tempo messo sotto controllo, evitando che si estendesse ulteriormente. Per tutto il pomeriggio sono continuate le opere anche di spegnimento degli ultimi focolai e per mettere in sicurezza l'intera struttura. Giochi e scommesse online. Parliamo di un'operazione contro l'Andrangheta, sequestri anche in Veneto. Nuovo capitolo nell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria su gioco illecito e scommesse online controllate dall'Andrangheta. L'operazione, che ha avuto i primi sviluppi nel cuore dell'estate, ora ha portato al sequestro di beni per 25 milioni di euro. L'operazione si è sviluppata con la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza, squadra mobile, EDIA, con Scico e nucleo speciale Frodi, tecnologie di Roma della finanza. I beni sequestrati sono 21 società italiane ed estere, 31 siti nazionali e internazionali, 36 immobili e numerose auto e moto. Gli sviluppi sono arrivati anche in Veneto, dove sono stati eseguiti sequestri di beni, oltre che in Calabria, Lazio e Sicilia. In particolare i beni sottoposti a sequestro sono l'intero patrimonio aziendale di 21 società e dei trust localizzati in Italia, Malta, Romania, Spagna, Panama e nelle Antille olandesi. Tre partecipazioni in società italiane, 31 siti nazionali e internazionali di scommensi online, 36 immobili ubicati nelle varie province, tra le quali Belluno e Venezia, 15 tra autovetture e motocicli. E adesso torniamo a parlare ancora di migrazione, di accoglienza. Noi continuiamo a dire no a qualsiasi accoglienza, il fronte del no si sta allargando moltissimo. Ora siamo oltre 30 sindaci, ogni giorno altri primi cittadini si stanno avvicinando a questa iniziativa. A parlare il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, mettere a disposizione case pubbliche per l'accoglienza diffusa sarebbe un gravissimo errore, dice Bitonci. Basta guardare cosa è accaduto in passato a Padova, in via Anelli. La sinistra, dice il sindaco, vuole trasformare l'Italia in un enorme via Anelli. A dirlo, come avete sentito, Massimo Bitonci, parlando di migranti a margine della cerimonia di commemorazione per l'11 settembre, cerimonia che si è svolta a Padova davanti alle principali autorità cittadine. I vigili della fuoco hanno un ruolo importantissimo nella sicurezza quotidiana della cittadinanza. Il loro ruolo è fondamentale, è fatto di impegno, ma è fatto anche di rischi, ma anche di tanto cuore. A Padova nei prossimi giorni ci sarà l'avvicendamento al comando. Oggi abbiamo incontrato il comandante che ha tracciato il bilancio di un anno di attività. Avvicendamento al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il prossimo 18 settembre lascerà il comando il primo dirigente, l'architetto Mauro Luongo, destinato al comando di Biella. Al suo posto arriverà il neopromosso dirigente superiore, l'ingegnere Francesco Notaro, proveniente dal comando di Taranto. Con il suo arrivo il comando di Padova sarà diretto da un dirigente superiore, come avviene già per i comandi di Venezia e Verona. Per l'ingegnere Notaro sarà un ritorno a Padova, avendo già prestato servizio come funzionario presso l'ispettorato, ora direzione interregionale ad inizio carriera. Come disposto dal Consiglio di Amministrazione del Dipartimento, giungerà a metà mese a Padova, proveniente dal comando di Varese, l'ingegnere Paolo Maurizzi, nominato dirigente di supporto alla direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige, che si occuperà della colonna mobile regionale. Anche per Maurizzi si tratta di un ritorno in Veneto, essendo già stato comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Padova, Mauro Luongo, ha incontrato la stampa con la quale ha tracciato il bilancio dell'attività svolta in città in poco più di un anno di permanenza. Sì, è appena un anno che ho trascorso qui a Padova, devo dire un anno veramente intenso, intenso di attività, intenso di relazioni con gli enti istituzionali, con gli enti locali, con il mondo del volontariato, ma soprattutto con le persone, i tanti cittadini che ci hanno richiesto il soccorso. In quest'anno, per dare qualche numero, quasi 3.800 sono stati gli interventi, un po' meno degli altri anni, vuol dire che la nostra attività di prevenzione sul territorio funziona. Devo dire anche che le calamità che ci sono state negli anni scorsi quest'anno ci hanno risparmiato. Però sono sempre tanti gli interventi, soprattutto gli incendi, che ci vedono in prima linea a cercare di minimizzare le conseguenze, a cercare di mettere in salvo le persone. Ne ricordo solo alcuni, che per dimensioni sono state come oggetto di cronaca, giustamente di tanto spazio per la cronaca. Non so, l'incendio da Isopipes a Cittadella, ma il primo incendio che feci arrivando qui a ottobre è stato a Curtarola, un astrificio, piuttosto che a Piove di Sacco, piuttosto da ultimo l'esplosione che abbiamo avuto a quel deposito di fuoco di artificio. Non dimentichiamo il 6 gennaio alla Befana di quest'anno l'esplosione che abbiamo avuto al portello di quella palazzina, dove abbiamo lavorato ore e ore incessantemente dalle 4 di mattina per cercare se ci fossero persone dentro, sotto le macerie, fortunatamente non abbiamo trovato nessuno. Noi della sinergia facciamo il nostro cavallo di battaglia. Pensate alla tromba d'aria che ha colpito il Veneziano, un mese fa a Dolo, dove appunto i pompieri intervengono da tutti i comandi del territorio per dare una mano a chi è particolarmente colpito. Il comandante uscente, tracciando il bilancio dell'attività, ha anche fatto un riferimento all'11 settembre, giornata simbolo per il lavoro dei vigili del fuoco che non si limita a un'attività lavorativa da svolgere, ma un impegno quotidiano fatto anche di cuore. In questa giornata particolare, oggi l'11 settembre, che per noi pompieri ormai è una giornata simbolo, perché rappresenta il lavoro, il sacrificio che i pompieri compiono normalmente, ma che in particolari occasioni, in occasioni eccezionali, trasformano il loro essere, il loro lavorare con il cervello, con il razziocinio, con l'intelligenza, la trasformano lavorando o prendendo l'energia dal cuore. E proprio questa è la differenza, perché andare nelle torri gemelle a donare la propria vita per cercare di salvarne anche una è il nostro mestiere, è il nostro DNA. E allora davvero devo ringraziare tutti i vigili del fuoco, in particolare i padovani, perché normalmente, quotidianamente, oltre a lavorare con intelligenza e con abilità, mettono un pezzo di cuore che fa crescere, fa da quel valore aggiunto alla nostra attività che molto spesso, direi, sempre i cittadini poi ci riconoscono. Venezia e la sua terraferma saranno collegate dal tram che entrerà in funzione il 15 settembre con l'inaugurazione della nuova infrastruttura dal giorno successivo, quindi dal 16, il tram entrerà regolarmente in funzione per pendolari e viaggiatori. Tra i primi ad usare il nuovo mezzo che ricordiamo funziona già in alcuni punti ci sarà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Secondo il Comune, il 16 settembre succederà un autentico Big Ben per il trasporto pubblico che richiederà innanzitutto un cambiamento delle abitudini dei passeggeri e degli studenti considerando anche che mercoledì sarà il primo giorno di scuola. In provincia di Padova Limena ci sono degli odori che infastidiscono gli abitanti, sono prodotti probabilmente dagli impianti di biogas. Ecco cosa dice il Comune. Non viene meno l'impegno dell'amministrazione comunale di Limena per cercare di diminuire il più possibile i disagi provocati ai cittadini dai continui odori provenienti dalle aziende produttrici di biogas. Pur in assenza di normative regionali che regolamentino la gestione di questo tipo di aziende spiega il sindaco in accordo con Arpa Veneto che ringrazia per la grande disponibilità e competenza da ottobre dopo un breve periodo di addestramento che coinvolgerà la Polizia Municipale di Limena e alcuni cittadini volontari da parte di Arpa prenderà il via un monitoraggio per individuare con certezza la provenienza la tipologia degli odori e per capire quali sono le matrici che li producono i dati raccolti saranno elaborati da Arpa che avrà così a disposizione uno strumento in più per poter predisporre poi delle linee guida su scala regionale il nostro obiettivo spiega il primo cittadino di Limena rimane comunque quello di spingere la regione Veneto ad approvare normative per la mitigazione di emissioni odorifere Imprenditoria Veneta investire e crescere favorendo l'occupazione il gruppo Padovano Ali continua la sua crescita creando nuove opportunità per il territorio ma creando ancora nuovi posti di lavoro oltre ai 40 anni di storia nella grande distribuzione organizzata continua la crescita del gruppo Ali che in questi anni ha battuto la crisi investendo e creando occupazione in Veneto 106 punti vendita sull'area regionale giovedì 10 settembre l'apertura di un nuovo punto vendita ha creato ulteriori 50 posti di lavoro con assunzioni e offrendo opportunità di lavoro a piccole e medie imprese e fornitori locali la nuova apertura è venuta a Cusinati di Tezze in provincia di Vicenza la cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del sindaco Valerio Lago ospite d'onore all'inaugurazione il maratoneta di spicco nel panorama italiano Ruggero Pertile quarto ai mondiali di Pechino e primo europeo che iniziò la sua carriera proprio dietro al banco salumi di un supermercato Don Giuseppe della parrocchia di Belvedere di Tezze ha dato la benedizione ai locali e ai presenti il presidente di Ali Francesco Canella e il responsabile affari generali di Ali Matteo Canella ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l'apertura del nuovo punto vendita il nostro impegno ha commentato il presidente Francesco Canella sarà quello di contribuire alla crescita del territorio attraverso il miglioramento del benessere sociale e della ricerca di soluzioni sempre nuove come risposta alle sfide che ci pone questa società in continua evoluzione continueremo a soddisfare i clienti con la qualità e ci impegneremo a favorire l'occupazione e il lavoro delle piccole e medie imprese del territorio a migliorare l'ambiente dove operiamo e a sostenere iniziative benefiche o progetti a favore della collettività la nuova apertura è stata e continuerà ad esserlo fino al 13 un'occasione di socializzazione di festa per i cittadini che potranno partecipare ad una serie di eventi organizzati e adesso invece lo spazio dedicato alla storia come ogni fine settimana la linea va a Marisa sotto via grazie grazie Patrizia oggi parliamo di Chioggia e della sua frazione sotto Marina era considerata una piccola è considerata una piccola Venezia e nei secoli fu la porta veneziana sull'Adriatico si colloca tra la laguna di Venezia e l'entroterra è un comune di circa 50.000 abitanti e Chioggia fu importante nel passato per il sale il sale di Chioggia era considerato bene dello Stato che ha dato vita anche a tanti scontri con Padovani con Bolognesi con Ferreretti nel 1379 Chioggia si distinse in modo particolare per la battaglia che ci fu contro Genova dove i genovesi appunto furono sconfitti il centro di Chioggia è famoso e ricco anche di beni storici a partire da palazzi chiese e monumenti ricordiamo la cattedrale di Santa Maria Assunta della Santissima Trinità e di San Giacomo dove troviamo opere importanti del Carpaccio del Tintoretto e del Palma ricordiamo anche le caratteristiche case dei pescatori particolari e case anche che furono di ricamatrici dei merletti con la tecnica a tombolo oppure a fusello qui c'è anche la casa di Carlo Goldoni come diografo ma anche appunto della pietrice Rosalba Carriera Chioggia ha un caso particolare di di omonimia c'è una elevatissima percentuale appunto di omonimia perché molti dei residenti portano il nome Boscolo e Piozzo e via eccezionale per distinguersi è stato consentito di registrare all'anagrafe anche il sopranome giusto per non fare confusione allora ricordiamo alcuni di questi sopranomi che sono Corcola che sono Angioletto e che sono Pasiolo e tanti altri ovviamente Chioggia basa la sua economia sulla pesca sull'attività agricola famoso i radicchio famose le cipolle bianche sedano verde e la barbabietola rossa ma voce importante è il turismo dovuto soprattutto alla frazione di Sottomarina ma anche di Isola Verde Sottomarina è celebre per la sua spiaggia con una estensione di circa 10 km e una profondità di 300 metri è una spiaggia finissima con sabbia finissima l'aria è ricca di iodio e c'è una elevata salinità delle acque che sono appunto indicate per la cura di patologie reumatoiche Chi ha scoperto Sottomarina? Sottomarina è stata scoperta da un giovane medico di condotta di un tempo si chiamava Francesco Boscolo e nel 1892 ebbe l'idea della costruzione di un complesso balneare per turisti ma anche per persone che avevano bisogno di cure da questo momento pediatri e medici di condotta consiglieranno la frequentazione di questa spiaggia consiglio che vale anche di oggi Chioggia inoltre ogni anno all'inizio dell'estate vi è la rievocazione storica del palio della Marciliana giusto per ricordare quella che è stata la battaglia del 1389 che dicevamo contro i genovesi dove appunto furono sconti chioggia la conosciamo anche attraverso un'opera teatrale famosissima le baruffe chiosotte di Carlo Goldoni a punte dove così si è permesso di assistere a quella che era la vivacità degli abitanti di questa zona quindi Chioggia sottomarina isola verde zone molto interessante e dal punto di vista naturalistico ma come abbiamo detto anche dal punto di vista storico parliamo adesso di un'altra iniziativa un'iniziativa di solidarietà dal titolo aggiungi un posto a tavola allora scopriamo di cosa si tratta quest'anno come comunità Papa Giovanni il 23esimo per il settimo anno di fila scendiamo nelle piazze d'Italia con questa iniziativa aggiungi un posto a tavola quel morto di fame di mio fratello sono proprio i nostri fratelli che vivono con noi gli immigrati gli extracomunitari le persone che hanno un'altra religione ma anche i bambini disabili i bambini che accogliamo ogni giorno gli anziani gli adulti i senza fissa dimora noi con questa iniziativa cerchiamo di far riflettere le persone sul problema della fame del mondo sulla malnutrizione sullo scarto alimentare il simbolo dell'iniziativa è un pacco di pasta che noi offriamo in corrispondenza di un'offerta e la pasta che avanza e che la gente ci ridona sarà proprio data il giorno dopo diventerà proprio un pane spezzato proprio per questi fratelli che ne hanno bisogno quindi le daremo alle carites alle famiglie dei fratelli musulmani che ne avranno bisogno e tutto quanto in quale piazza potremo trovarvi? allora il 18 e 19 settembre saremo sicuramente davanti alla basilica del santo a Padova il 26 e 27 settembre saremo qua a Cittadella saremo il 27 settembre a Padova in piazza Garivaldi davanti a Luis Vuitton saremo a Campo San Piero e in tantissime altre città d'Italia uno sguardo alla situazione climatica sul territorio dopo una residua variabilità nella prima parte di oggi una parziale rimonta di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo rende il tempo stabile in prevalenza soleggiato fino alle prime ore di domenica in seguito purtroppo le condizioni sono destinate a cambiare arriverà una saccatura atlantica che porterà a un aumento della nuvolosità e precipitazioni che saranno significative secondo gli esperti nella giornata di lunedì poi il tempo avrà un ulteriore miglioramento diventerà quindi stabile in teoria da martedì è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti